Lo dicono tutti, i freschi delicati sono solo Vidal e vi presentano... Resta esattamente dove sei! Arrenditi! Io non ho fatto niente! Ti avverto non ti muovere se no ti faccio soltare il cervello! Io non ho fatto niente! Loro hanno versato sangue per primi. Rambo, rispondi! Hanno sparato per primi. Un mito del cinema. Venerdì 20 e 40. Rambo, su Canale 5. Penne e Barilla danno più sapore alle gioie di ogni giorno. Dove c'è Barilla, c'è casa. Clan Campbell, di Novo Scotch Whiskey. Entra anche tu nel più nobile dei clan. Gustavo, dove siete? Il nostro Rocher sta ormai per finire. Signor Barone, sono bloccato in un ingorgo. Bisognerebbe poter volare. Volare? Ah. Credevo già che foste rimasto senza Rocher. In una casa come questa le cose buone non finiscono mai. Un momento! Non ha per caso una fabbrica di Rocher in cantina? Ferrero Rocher. Noblesse oblige. Ehi, ehi, guarda quei due. Hanno appena iniziato e hanno già finito. E che splendore, ma come avranno fatto? Ah, Vim Liquido. Certo, si passa e non si sciacola. Dai, fai vedere. Beati loro. Vim Liquido pulisce a fondo senza fatica. In TV Sorrisi e Canzoni di questa settimana, Cuccarini Columbro ha il momento del cinema. Pallone di Platino vota il miglior cacciatore. Sanremo, i testi delle canzoni e il concorso Sanremo Tris. Quando uno ha mal di testa, ha un solo desiderio. Che gli passi in un momento. Momento. E rapidamente ti passa. Evitare l'uso prolungato può avere effetti collaterali. Leggere attentamente le avvertenze. Quando scegliete un prosciutto cotto di qualità, soltanto uno vi sarà servito in una comoda vaschetta. Parma Cotto. Con l'intatta freschezza avrete in regalo i vassoi d'autore. Parma Cotto. Una superiorità trasparente. Io, io sono molto esigente. Anzi, ultra esigente. E anche per i miei capelli. Così scelgo ogni giorno ultra dolce alle piante. Oggi poi ultra dolce ha una nuova formula, arricchita di dolcezza. Per me è davvero più delicato. E i miei capelli sono più morbidi. Sono più luminosi. E il merito è di ultra dolce alle piante. Shampoo ultra dolce alle piante. Garantito dai laboratoires Garnier Paris. Acqua minerale Fonte Sant'Antonio. Bere sì, ma naturale. Presente? Danne Kroit. Sì, dottore. Sono io. Sono un dottore. Walter Mattau. Non mi sembri affatto un dottore. Mi sembri un disadattato scontento. Roba da matti. Una storia che ti farà impazzire di risate. Quando è che voi due angeli della pietà avete sentito il prepotente bisogno di assistere i manoti mentali? Quando abbiamo scoperto che potevamo pestarli impunemente. E cosa fai quando il tecnico dei frigoriferi telefona che non viene più? E quando tua figlia ti frega il vestito nuovo? Sono il clou della serata. Lo strizza cervelli. Prima tv lunedì 20 e 40, canale 5. Sono qui Armi. Ma sto arrivando lì. Dietor. Per piacere. Per piacersi. La bocca non è solo denti. Anche gengive. Per questo oggi c'è Mentor & Tonic. Una doppia azione in un solo gesto. Le setole interne, corte e forti, puliscono a fondo i denti. Le setole esterne, più lunghe e morbide, massaggiano le gengive tonificandole. Perché sono le gengive che tengono saldi i denti. Mentor & Tonic. Il primo spazzolino da denti che pensa anche alle gengive. Mentor & Tonic. Prevenzione dentale quotidiana. Gourmet stringe un legame tra te e me. La colazione. Al mattino è importante partire bene. Per questo bisogna cominciare con una colazione più ricca e completa. Con i cinque cereali di Kinder Colazione Più Con quel gusto di cacao che ti tira un po' su Puoi partire alla grande anche tu Pronti? Prontissimi! Per una partenza alla grande Kinder Colazione Più Lievitata naturale ai cinque cereali I am calling you Can't you hear me? I am calling you Volvo 460 Buon appetito a Mario Che riesce sempre a farla a Franca A Lucia Che dopo il ristorante cinese Ha deciso di mangiare più leggero Buon appetito al piccolo Gianluca Che spalma, spalma Filadelfia Senza mai stancarsi E buon appetito a Carlo Che sa come prendere le donne per la gola Filadelfia Dedicato a chi ama mangiare Leggero E da Filadelfia La prima mousse di formaggio Così soffice e golosa Che è una sorpresa Scopritela Craft Cose buone dal mondo Mi accompagni a fare shopping? Che amica! Con Amica Super Shopping Vinci cinque milioni Da spendere in moda dove vuoi Che super shopping! Che amica! Belser Biscotti e crackers Da cent'anni rinnova ogni giorno Una tradizione di bontà Belser presente Siete disturbati da strani rumori Nel pieno della notte? Provate un senso di terrore In cantina o in soffitta Voi o i vostri familiari Avete mai visto Spiriti, stiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì Non esitate Prendete il telefono E chiamate i professionisti Gli acchiappa fantasmi 24 ore su 24 Per soddisfare le vostre esigenze Di eliminazione del soprannaturale Siamo pronti a credere in voi Pronti? Contattatevi a Chiappa Fantasmi Mercoledì su canale 5 C'è Ghostbusters Buon cinema a tutti Nel mondo di Philips Whirlpool C'è un nuovo frigorifero Che allunga la vita ai cibi Grazie alla circolazione di aria fredda Ha quattro zone Perfettamente climatizzate Una per il congelamento Una a zero gradi Per la carne e il pesce Un'altra per la verdura Un'altra per il latte e i formaggi Il frigorifero Philips Whirlpool È tutto uno frost Quindi non occorre sbrenarlo Philips Whirlpool Più qualità alla tua vita Vera Davvero unica Vera C'è tutto Ho già scoperto la moda dell'estate Ispirata ai grandi stilisti Un sacco di proposte Vera Vera spiega tutto sulla dieta vegetariana C'è di più I consigli su come comprare una casa Le ricette per un gustoso pranzo di Pasqua È incredibile Sull'inserto tanti spunti Per rendere originali i soliti mobili E poi bellezza Turismo Salute C'è proprio tutto Sole 3000 lire Vera Tutto il possibile Il numero di marzo è in edicola La bocca non è solo denti Ma anche gengive Per questo oggi c'è Mentor & Tonic Una doppia azione in un solo gesto Le setole interne, corte e forti Puliscono a fondo i denti Le setole esterne, più lunghe e morbide Massaggiano le gengive tonificandole Perché sono le gengive Che tengono saldi i denti Mentor & Tonic Il primo spazzolino da denti Che pensa anche alle gengive Mentor & Tonic Prevenzione dentale quotidiana Come ViciNet scioglie questo guscio Che è di calcare Così ViciNet scioglie tutte le incrostazioni E le impurità del water Anche quelle invisibili Io da anni uso ViciNet tutti i giorni E ho un water sempre pulito Come nuovo e con l'igiene ViciNet L'igiene che mi lascia tranquillo ViciNet Pulizia e igiene garantite ogni giorno Per una colazione leggera Miccole I biscotti secchi e leggeri Con tanti fiocchi di cereali Mangia sano Torna la natura Con mulino bianco barilla Dai laboratori Garnier Una formula unica Shampoo Acqua Vital Tutta la vitalità degli estratti marini Acqua Vital Un nuovo vigore per i vostri capelli Shampoo Acqua Vital Agli estratti marini Massaggiate Acqua Vital Tonifica i capelli E il cuoio capelluto Ogni giorno I vostri capelli acquistano vigore E sono belli In tutta la loro forza Acqua Vital Lo shampoo vigore Agli estratti marini Garantito da Laboratoire Garnier Pari Nell'ultimo grafico Per portarti lontano dal mondo E vicino a te Lila Pause Il goloso snack al cioccolato al latte Milka Arricchito con cinque gustosi ripieni croccanti Lila Pause Lila Pause Una pausa di piacere Da Milka Il lilla che invoglia Come sarebbe a dire che mio figlio se n'è andato? Andato dove? Credo che ti piacerà il Marocco E quando ci raggiunge la mamma? Canale 5 Presenta la storia di una madre Che lotta per riavere il suo bambino Mulai Zahir è un arabo Forse è semplicemente tornato a casa Portando con sé suo figlio Ma perché? Perché non me l'ha detto? Perché così vuole il deserto Perché così è scritto Tuo figlio È sangue del mio sangue E nessuno straniero Riuscirà a portarlo via dalla terra dei beni Zahir Lo troveremo Il principe del deserto Il principe del deserto Da martedì 12 marzo Su canale 5 Vera davvero unica Perché è una miniera di informazioni precise e utili Ha sole 3000 lire Vera tutto il possibile Il numero di marzo è in edicola Mi raccomando che sia tirata al lustro Anche qui Addio libera uscita Ma va Abbiamo questo Lo usava anche mia madre Fa una schiuma Questo è il nuovo Vim Si passa e non si sciacqua Vero? Chiedi a tua madre Finito signore Di già Bravi Ma avete usato questo? Signora sì Nuovo Vim liquido Facile la vita oggi eh? Vita le situazioni Voce apparizioni Le tue libertà Quando ti fai vedere Quando ti fai vedere C'è tanto gusto In tutti i gusti Con dietorelle Dietorelle Caramelle senza zucchero La linea E tutto il gusto che vuoi Ogni giorno Il calcare Entra in casa tua Dove c'è acqua C'è calcare E il detersivo Contro il calcare Non basta Fai entrare Via Cal Guarda Persino dove le incrostazioni Sono più dure Via Cal Scioglie il calcare Per questo Via 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 il calcare Con Via Cal E tutto splende Via Cal Via il calcare Da casa tua Il calcare Non abita più qui La bocca Dentale quotidiana In prima tv Se ne va a New York Vuol vedere che cosa c'è laggiù? La storia di un ragazzo Che un giorno decide di andare a New York A fare fortuna Lo sto facendo soprattutto per te Due problemi Due problemi New York Mamma non preoccuparti Non c'è nessun pericolo Ma stai bene? E forse anche la fortuna Oh no Mio marito Tuo marito È il mio capo Michael J. Fox Il segreto del mio successo Lunedì 4 marzo Canale 5 Ajax è tutto il meglio Che per la tua casa Puoi desiderar Un gran pulito Un gran brillar Che grande igiene Senza faticar Mai più il risciacquo Mai Con Ajax Passi una volta e vai Pulito E igiene Senza fatica Ajax Si è già finita Ajax Pulito E igiene Senza fatica Igiene Si Faticano Quando due persone Eseguono lo stesso lavoro Il risultato può essere Molto diverso Tutto bricolage È la pubblicazione A schede mobili Con tutto ciò che serve Per riuscire nel fai da te Con tutto bricolage Il fai da te È veramente un gioco Tutto bricolage Il primo numero Enedicola Con il pratico raccoglitore Al Conad Al Conad Ci si torna Sarà per la freschezza Dei prodotti Sarà perché sorridono Sempre Sarà perché il fruttivendolo È un vero fruttivendolo O perché trovi anche Il formaggio locale Sarà che c'è il bello Del supermercato Con l'atmosfera Del negozio Una cosa è certa Al Conad Ci si torna Per un sacco di buoni motivi Quando il signor Rossi E il signor Bianchi Escono dall'ufficio Non vedono l'ora Di tornare a casa Per rilassarsi Ma C'è un'ultima fatica Cercare le chiavi E aprire Bianchi Che si è installato La nuova Iseo 2001 RC Ha preso un bel vantaggio Iseo 2001 RC L'unica serratura elettrica Con telecomando Fai un break Spezza con KitKat Che brividi Sarà paura No, no Sarà febbre Meno male che c'è Neo UniPlus Vado io Contro i sintomi dell'influenza Contro la febbre e raffreddore Neo UniPlus In una presentazione nuova in compresse Evitare l'uso prolungato Può avere effetti collaterali Leggere attentamente le avvertenze Allora, sei pronta? Dai laboratori farmaceutici Angelini Nuovo Nelsen Piatti Grasse e odori difficili Li cancella completamente Nuovo Nelsen Piatti Vi presenta Un reso prolungato Il piano Il piano Il piano Dopo tutto Fernet Branca Fernet Branca Pregio e privilegio Ritornano in edicola I maestri del colore con Vittorio Sgarbi Ogni 15 giorni una videocassetta Con le opere più significative di ogni artista Analizzate da Vittorio Sgarbi E una monografia con splendide tavole a colori Con la prima uscita la videocassetta E la monografia su Van Gogh Fabri Editori Vileda Pavimenti Assorbe tutta Ma proprio tutta l'acqua Senza fatica Vileda Pavimenti Un'idea così asciutta È solo Vileda Il più buon sapore che ci sia Brodo Star Tutto il sapore di casa mia Sorridente Gustosa Naturale Viva Leggera Danone è tutta salute Allora Scegliete il vostro modo per dire Oggi mi sento Danone Danone Per i miei capelli con permanente Io voglio la morbidezza Ma non solo Così ho scoperto il balsamo EnerGans Che alla mia permanente Dà in più il massimo dell'elasticità EnerGans Formula dell'Oreal Specifica per capelli permanentati Dà morbidezza E insieme elasticità Finalmente Con l'EnerGans la mia permanente rimane davvero bella Più a lungo Balsamo EnerGans D'EnerGans dell'Oreal Morbidezza Ed elasticità Ai capelli con permanente La leggenda della mille miglia E dei suoi spericolati piloti È una delle molte leggende Che si celebravano al ristorante Fini di Modena Dove sono nati i tortellini freschi Fini Una bontà Che è una leggenda da quasi 80 anni Una specialità che ancora oggi È il meglio del ristorante Fini Cioè il meglio di Modena Cioè il meglio dei tortellini Tortellini freschi Fini Il meglio del meglio del meglio Scusate se interrompo Ma poi chi pulisce? Oh non preoccupatevi A pulire e lucidare l'acciaio ci pensa Blitz Inox Blitz Inox Per un acciaio che incanta Un palco all'opera In edicola Una prestigiosa collezione Di capolavori della lirica In videocassette Prima uscita La Ida alla scala con Pavarotti Fabri Editori